Ciao, mi chiamo Silvia e lavoro nel laboratorio di fisica in F13. È la prima volta che mi candido come rappresentante sindacale e ho deciso di farlo adesso perché penso che sia un momento cruciale nella vita aziendale. Infatti il prossimo anno abbiamo il rinnovo del contratto di secondo livello ed è anche l'occasione per discutere costruttivamente di alcuni temi che ritengo fondamentali, la parità di genere e lo smart working. Questi due temi non sono separati, come si potrebbe pensare. Infatti lo smart working ha consentito a molte persone, molte donne soprattutto, di conciliare meglio gli impegni a casa con quei lavorativi. Quindi ritengo che questo sia uno strumento che possa aiutare ad aumentare l'impiego freddo. Notre ST ha dichiarato più volte di aver apprezzato il nostro lavoro anche da casa in questi mesi di pandemia. Allora perché non continuare su questa strada? rendiamo lo smart working uno strumento non eccezionale, ma normale e soprattutto regolamentario. Se anche tu la pensi così, ricordati di andare a votare al prossimo rinnovo delle rappresentanze sindacali del centro, di votare FIM e se vuoi di esprimere una preferenza scrivendogli. Grazie. Grazie. Grazie.